Nella puntata precedente, il bellissimo Dario sacrifica una pomettente e sicura carriera come modello per inseguire il suo sogno di diventare un campione di bocce. Ma la sua famiglia non sembra prenderla bene. Caro Dario, io vedo il tuo futuro. Dario, in preda furia barbina, si reca in bocciofila e con un tiro incredibile stupisce i due avversari. Ma quando tutto sembrava andare per il meglio, un nuovo pericolo incombe sul nostro fascinoso eroe. Complimenti figliolo, ma per andare a Milano dovrei sconfiggere il campione di Desio che è... Il campione di Desio è il terribile Meringhetti. Cosa? Ma manca il fiato, portatemi l'ossigeno. Stiamo parlando di un'autentica leggenda desiana. Il suo nome, conosciuto fino a Milano, si mormora anche in Liguria. Bene sì figliolo, ma solo così potrei andare al torneo di Milano. Dicono che il suo bau celebre è oltre mille. Ricordati che la vita è come una boccia. Gira solo se la lanci e solo così puoi arrivare al pallino. Devo schiarirmi le idee, troverò le giuste ispirazioni. Ehi Dario! Dario ti ho visto ieri alla bocciottica. Sei proprio un bel puto. Che andrebbe di fidanzarti con me? La tua proposta è molto alettante. Io sono un tipo serio. Però stasera ho una sfida importante. Poi ti farò sapere. Apprezzo la tua sincerità. Sei un bel tipo. Dario Forrester è il campione Meringhetti. Justin Bilber che non sei altro. Vieni qua che ti sistemo io. Non accetto le tue polemiche. Lasciamo parlare le bocce. Tiro dalla gatta cattiva. Tiro. Bannato. Punto. Piano. Molto bravo. Ora tocca a me. Tiro dalla gatta cattiva. Accidenti. Manzoni vieni qua un attimo. Ti ricordi quanti grappini ti ho pagato? Devi pagare il tuo debito. Voglio ricorrere il trucco del capo. Ma non vorrei forse che? Sì lo voglio. Va bene va. Vieni Dario prendi questa boccia speciale della Liguria. Vedrai che vinci. Grazie signor Manzoni. Sei davvero un amico. Vincerò boccia punto. Ci ho messo troppo forza. Ma questo è barare. Ci sei cascato col trucco più vecchio del mondo. Ora sono in vantaggio. Ho solo un tiro per vincere. Devo concentrarmi molto. Vieni tu Armani. Tiro della mitica boccia su lui. Ricordati che la vita è come una boccia. Gira solo se la lanci. E solo così puoi arrivare al pallino. E ho vinto! Oh Dario! Oh Dario! Oh Dario! Oh Dario! Mmmh saprò come vendicarmi. Allora bravo Meringhetti. Offro i bravi per tutti. Mmmh! Allora Dario ha pensato alla mia proposta? Certo la mia risposta è... Allora Dario Allora Dario ha pensato alla mia risposta.